E' un'emozione che ha provato nel momento di tagliare in un posto particolare per dei committenti particolari. E' stata bellissima, è la mia prima volta, sono molto legata ai cantiari navali, abbiamo lavorato tantissimo insieme per raggiungere questo ragguardo e quindi è andata bene. Lei è una conoscitrice e quindi sa tutta la storia di questa Fenice che nasce sempre dalle sue centri di Cosa, sono 30 anni che è qui e continuerà, adesso riempiranno questo spazio con qualche altra cosa.